Come si occupa di lavori pubblici? All'interno dell'Associazione mi occupo di lavori pubblici. I lavori pubblici oggi sono un settore molto in fermento e hanno bisogno di una forte attenzione sull'attività legislativa che il Governo sta per fare e continuerà a fare. Quindi da questo punto di vista ho impostato il mio mandato principalmente su tre punti fondamentali, che ritengo fondamentali e riteniamo importante e di sviluppo per le aziende e anche per l'Associazione. La prima è quella dell'informazione. L'informazione è basilare. L'Associazione è sempre stata per le nostre imprese un punto di riferimento e quindi come tale è necessario sviluppare e ancora di più implementare la parte di sviluppo che l'Associazione dà a tutte le imprese. La seconda parte riferita sempre a un'informativa capillare e professionale è quella riferita anche allo sviluppo del modello di business. Difatti in base all'evoluzione della legislazione dei lavori pubblici cercheremo e faremo, porteremo sicuramente le imprese a conoscere quali saranno le opportunità di sviluppare i modelli di business, i modelli di impresa e quindi l'evoluzione stessa che avranno direttamente anche le imprese. Per ultimo, rispetto a tutti questi temi, saranno quello di creare anche opportunità all'interno delle imprese e delle aziende che fanno parte dell'Associazione, per cui cavalcare tutte quelle opportunità che potranno essere importanti e saranno strategiche per il mercato e cercare di portarle su un tavolo creando delle sinergie tra gli associati e creando una migliore compatibilità e interazione tra le varie aziende che fanno parte dell'Associazione.